Ciao a tutti e benvenuti di OptiTube Channel, il primo YouTube YouTube italianico oggi parliamo di slit lampo, l'ultimo strumento nell'evaluazione dell'interior segmento e l'ultimo strumento più importante nella pratica di lente di contact ogni slit lampo, non pensando per modello per modello è composto da un sistema di illuminazione e un sistema di osservazione quindi cominciamo dall'illuminazione è composto da un'illuminazione che emita l'illuminazione che passa attraverso un condensatore ottico per produrre un avvento plan e questo l'illuminazione passa attraverso un slit e lo dà il nome di slit lampo è possibile regolare la slit sull'orientazione, dimensioni o forma è disponibile un set di filtri dall'antitermico per evitare l'evaporto dell'interfile o un filtro verde per evalurare meglio l'interior segmento del sangue del sangue o un filtro blu per evalurare meglio le lente di contact in un esame fluoroscopico l'illuminazione è direttamente all'occhio da un mirrore voluto a 45 gradi e è possibile anche mesurare l'orientazione e le salle del slit l'osservazione è composto da un biomicroscope che permettono di osservare strutture in un modo 3D quindi in un ambiente stereoscopico è disponibile per l'adaptazione del biomicroscope per cambiare la distanza interpropilare o la compensazione oculari durante l'osservazione l'osservazione ha anche un filtro bratten che è combinato con il filtro blu dell'illuminazione per evalurare meglio le lente di contact in un esame fluoroscopico finalmente l'osservazione e l'illuminazione sono legati con gli stessi rotazioni quindi puoi osservare la stessa area che stiamo illuminando solo in alcuni casi e solo in alcune tecniche con un modello particolare di lampo di slit puoi osservare un'area che non stiamo illuminando per performare le tecniche indiriche per fare più il contrasto visuale è disponibile anche un CCTV o un videocam posizionato nell'osservazione per il video registrare quello che stai vedendo con la lampa di slit il concentrato è possibile con una lampa di slit che ti permettono vicino o vicino dalla struttura che vuoi vedere quindi è finito per questo video nei prossimi video vedremo le tecniche di illuminazione con la lampa di slit non dimenticate di lasciare molti like e di iscrivervi al canale OptoTube seguite la pagina Instagram la pagina Facebook e la pagina di mercantino vediamo nel prossimo video OptoStyle Grazie